Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! San Paolo, partita finita 4-1 per San Paolo, migliore in campo sopito, due gole e due assist, andiamo prima però da Cevuce, migliore dei suoi per il Chalibacu. Alessandro, oggi mai in partita la vostra squadra, come mai? Non sta succedendo dall'inizio dell'anno questa cosa, quindi non è solamente oggi, è andata così, mi piace. Ci lasciate il torneo a testa alta? A testa mezz'altezza. Va bene, in bocca a lui il presidente del torneo, andiamo ora dal migliore in campo, sopito, una grandissima partita per te, oggi un gran San Paolo, però nel finale cosa è successo? Cosa è successo? Sono appiccicati, non ho capito bene perché stavo buoni, onestamente. Vabbè, alla fine come al solito dobbiamo ordinare anche una bella vittoria. Sono San Paolo, secondo te puoi puntare veramente alla vittoria, oppure manca qualcosa? Siamo arrivati penultimi a regolar season, terzi ultimi, ce la siamo giocati contro la Cevce, una delle squadre più attrezzate del torneo, va bene così. Una dedica speciale? Alla squadra, forse. Va bene, al padre, al padre, allora. Papà, qualcosa da dire? No, vi prego, vi prego. Acco Gozzale, mi hai suggerito di mettere il giro, in bocca al lume, presidente del torneo, ciao ragazzi.